musica 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 daniele ci sono francesca e meri ciao ragazzi dobbiamo andare ciao ciao comunque c'è veramente io non me lo so merda ragazzi 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 ma avete fatto le congratulazioni a meri hai visto lei non voleva che te le facessi no congratulazioni tutto a merito tuo no cos'è tre mesi no quattro mi sono laureata a 40 anni ne ho 32 ma come ti viene in mente cioè io hai visto quella è una gaffe non le mie che sono anche giustificate la pancia c'è voglio dire andate a vedere uno quasi è sprodolato tutto è sprodolone coglione sprodolone coglione sprodolone oddio che figura no io voglio morire posso dire che mi sono rotto il cazzo no lo dico l'ho detto io non ne posso più non faccio lega uno allora a parte che la pancia lì c'era che volendo andare a vedere poteva essere una cosa o l'altra fa niente tirano dietro ma lui uno così uno sta a casa due se vuole uscire impara a bere con la sinistra però no è anche il locale che c'è la luce bassa e uno non vede le cose non avete i soldi per comprarla lì per ascendere la luce alzare le green abbiamo soltanto luci led da bassa intensità eh? ma sono sicuro che a lei la salvaguardia del pianeta non interessa mi interessa ma mi interessa anche la mia ma scusi ma come si fa a vedere? lei sia onesto cos'è una serata per disabili si hanno raccolto di beneficenza questa va beh cosa ci fa un secchio qua? ma è una raccolta secchi per disabili secchi per disabili? perché i disabili non hanno bisogno di secchi ma quella però stai imbarazzante fai troppe gaffe basta è finita non voglio più uscire con te alla gara no non lasciarmi non lasciarmi alla gara no 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 alla gara no è un incul chi cazzo è Anna Gaia? ciao 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 ciao